Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Ades e DJ Red. Buonasera a tutti e bentornati in questo nuovo video, nuovo, nel riepilogo di The Sims. The Sims 4. C'eravamo lasciati dove c'eravamo lasciati, non mi ricordo. Praticamente dove c'era Sofia che veniva, veniva, ecco, da chi era già, che non mi ricordo. Caro amico coso, come mica si chiama, non mi ricordo, non mi ricordo, è Beppe Criri che era, è una vita che la conosciamo, sì, Beppe Sa, è Nuda, attenzione, ancora voi non la vedete. No, una panoramica del club io la devo fare, scusami, ma, cioè guarda che roba. Stica! Anche oggi si monetizza domani, sì. Ok. Però porca tutta, cioè dai, tanta roba. Ho già qua il titolo, Sofia Cucci Nuda. Sì, hai pur la miniatura, quindi. Infatti. Va bene, comunque, ci eravamo rimasti dove eravamo, che Sofia si era fatta a Beppe Sa. Ma chi c'era l'altro che rompevi i coglioni, non mi ricordo. Forse ero io che forse dovevo provare a farmela, ma non mi cagava di striscio. Io ci provavo, ci provavo, come nella realtà nessuno ti caga. Nessuno ti caga, sì, perché tu fai schifo, sei un pezzente schifoso, nessuno ti caga. Vabbè, andiamo avanti. Sì, però dobbiamo dire qual è lo scopo. Lo scopo di oggi praticamente sarebbe quello di fare cioccare, cioccare uguale a bisticciare, uguale a prendersi a botte. Ecco. A Beppe Sound e Alex, che sarebbero i due contendenti di Sofia, no? Quindi la missione di oggi è quella. Voi, come potete, anche come vedete, tanto c'è. Io me ne sbatti i coglioni e la ciollo proprio. Sì, sei sempre lì che mangi, mangi, mangi. Vabbè, però non è che è scherzo, eh. È anche bello. Guarda qua, poi sempre lui, anche lui che mangia, al tutto è ingrassato. Ma come fa a ingrassare se il gioco è fermo nel frattempo? No, lui è ingrassato da quando l'ho creato. Ah, dalla prima volta. Da quando l'ho creato, l'ha ingrassato comunque. Abbiamo fatto partire il tutto. Perfetto, noi dobbiamo andare adesso. Dove Adrix è stato dormendo. Ma dorme sempre, sto ragazzo. Dormi sempre, do altro tutto. Dove cazzo sei? Ah, c'è anche un rubinetto che perde? Sì, abbiamo la casa che sta... Ah, è questo? No, questo è Mauro. Questo è Mauro. Dove cazzo sei? Mi dici qua, ma non ci sei. Dove minchia sei? È sparito. Ah, ti sei addormentato. Vabbè. Ti sei addormentato nella doccia, fai troppo scherzo. Cioè, hai un cazzo di energia come al solito. Cioè, sei un panzone di merda. Ma pensa a te. Ma come ha fatto a addormentare? Minchia, riuscì ancora da negare, ragazzi. Basta, esci dalla doccia, Alex. Ma facciamo svegliato. Che schifo, Alex. Madonna santa. Quella è ancora una miniatura, pure. E' ancora una miniatura. Mi ha trovato una miniatura. Comunque, facciamo rivivere un pochettino Adrix di energia perché dobbiamo intanto farlo riprendere un pochettino. Quindi aumentiamo un po' la velocità. Poi magari, zicke zicke. Ci vediamo quando Adrix si è ripreso un po' di energia. Ma quando vuoi tagliato questo? Sì, sì, sì. Non so se si ripriga un attimino. Tanto sarebbe, lui che ripiglia l'energia e l'altro era... O se no, provo a prenderne un'altra. Ah, Beppe Sound. Provo a prenderne un pochettino. No, tutti e due che stanno... Buono, così si ripigliano l'energia e si ammazzano a Beppe. Sì, è bello pieno adesso. Ok, eccoci qua. Adesso praticamente si è ripreso un po', ha fatto una dormitina Adrix. L'altro contendente, anzi il primo contendente perché praticamente Beppe Sound sarebbe il primo che è riuscito a scoparsi. Sì. Allora, cosa facciamo adesso? Noi potremmo chiamare Sofia qui e fargli fare magari una sfumatina con Beppe Sound. Nel frattempo io chiamo a te e ti faccio vedere qua. Così lui, loro che guarda, lui si incazza e poi dopo che loro hanno finito... Però tu devi fare incavolare Beppe Sound, non Adrix. Fai fichi fichi con... Ah, con lui, no, vabbè, fai fichi fichi con Adrix, non importa. Brava Sofia, dov'è Adrix? Ah, io sto già chiedendo. Sì, cavolo. Ecco, l'ha accettato. Sì, accettato. Bene, bene, bene. Adesso noi li seguiremo copiosamente. Intanto Rubinetto continua a perdere l'acqua perché poi si trovano con l'acqua... Ma perché Beppe Covello e io non facciamo un caccio e sbattiamo i coglioni, mangiamo e basta. Mauri pure è un coglione con la camicia e le mutande. Vabbè, lasciano per. Poi c'è un'andatura proprio. Il prodotto è la cosa bellezza del giochio che puoi decidere pure il tipo di andatura. Se parla da figlia, uomo... Ah, sì, da finocchio. Una stessa camera. E' già qua. E lui si è svegliato. E' già qua, si è svegliato. Guarda, guarda, eh. E' già qua. Dai, e va al computer. Beh, pensavo, non te ne pregare al computer, vieni qua. Ma pensa... E se ne sbatte le balle, guarda il computer... Ah, e questo arriva. Se ne sbatte, lascia la volta. Ma però li sta guardando, eh. Lei non fa nessun gesto di incavolamento. Ora tu dovresti sentirti molto macho, che tra l'altro si tratta. Eh sì, perché mi sono fatto la sua tesi. Esatto, per cui andrà a insultare compesamente a Beppe Sans. Sì. Guarda. Guarda. Guarda, guarda. Guarda di quale. Guarda di quale. È la prima volta. La strinola. Guarda come un muratore. Infatti si sono addormentati tutte e due. E si sono addormentati. Però Alex si deve svegliare subito. Andare da lui. Altre scelte. Perfido. Insulta. Insulta. Dai, vediamo se riusciamo a fare la missione. Dai. Questa è una gran missione. Sei un coglione. Non fai un cazzo. Vedi, io mi sono trompato cosa. Tu stai a farti le pippe sugli tumi. Ora insulta di nuovo. E poi. Insinua che la mamma sia una lama. Va bene. Guardalo. Guardalo. Adesso. Sei incazzato. Dove hai? No, adesso Beppe. Beppe è incazzato. Però. Dobbiamo. Provoca. Provoca subito. Dove cazzo vai? C'è Beppe Sound che è furente. Però adesso andrà a provocare. Intanto la zocco la dorme. Andrà a provocare a Adrix. Vedremo se scaturisce una rissa. Ma quindi fai tornato. Ah, eccolo qua. Sì, sì. È tornato. Adesso lo provoca. Guarda. Attenzione. Guarda. Lancia una demanda. Lancia una demanda. E dove la prendiamo? Sì, no. Dai. Guarda. Testa contro te. Fai fuoco e fiamma. Attenzione ragazzi. Bambic Trimba? Oh. Churky grouse. Oh. De Simpsons. Non è inglese. Non è inglese. Non è inglese. Diri. Non è inglese. Spingi. Manda via. Insulta il viso. Sample peluche. Oh. Shakapur. Perido. Tu ridi. Tu ridi perché non sei insultata. Dicià. Mi so fatto latino. Tu invece di fare pip. Ma guarda è difficile eh mica farina mena. Ma è una puttana allora. Insulta la mamma di nuovo. La mamma è grossa. Che cazzo dici? Insulta il viso e rimprova la asprame. Cosa vuol dire rimprova? Rimprova? Ma adesso ho capito. Ma che cazzo è la mamma veramente? Perché devi rimproverla. Ma nienti i vecchi i bianini. Diri. Comunque era. Potrebbero fare a botte solo quando si vedono con la pipa. E' proprio qua. Attenzione ragazzi. Mi sa che è arrivato un momento eh. Vai vai. Chi sa? Si stanno amassando. Mette sotto sotto. Schiappone. Ma sono la cura di tutti i due. Andri non so se la mia cazzo sta beccando. E' un ruolo. Madonna mia che è botte. E' un ruolo e poi. Secondo me ce le sta prendendo uno di questi. Vai di nuovo. Se le prese Beppe. Attenzione. Però adesso Beppe. Cosa fa per vendicarsi? Beppe. Sì. Ora parla. Ok. Hai fatto svegliare Sophie. Baccia dai. Baccia. Tanto voi due siete. Dice la donna. Ma con Beppe Sound? Eh sì. Vediamo se adesso per sfregio Beppe Sound riuscirà a trombarsi nella nostra cara Sofia. Ma il bacio... Uh quanto il suono ne ha rifiutato il bacio. Ha rifiutato il bacio. Riproviamoci. Romantico. Ci sta provando eh? Vi dico però, Sofia è solda, no? Beh comunque diciamo che la missione è andata. La missione è andata, sì. Mi sono riuscito a fare i picchiare. Adesso la domanda è... Beppe riuscirà a trombarsi di nuovo Sofia? Adrie si sarà calmato per il comportamento di Beppe? Erik e Covello. Che cazzo stanno facendo dentro quella casa che è tutto scassato e lo fanno un cazzo? Ma soprattutto anche loro riusciranno a trombarsi Sofia? Chi lo sa? Ragazzi se volete vederlo lo vediamo magari in un'altra puntata. Poi se volete che facciamo altro come al solito non fatemi ripetere ogni volta le solite cose. Faccio lo sapere qua sotto nei commenti. Non lo sapere qua sotto nei commenti. La dà dà chiedete l'anxi. Ma fate che cazzo volete? Ma mi state sul cazzo di tutti i coranni. Ok ragazzi con questo è tutto. La missione l'abbiamo completata. Come ha detto lui diteci un po' cosa volete che facciamo. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Lasciate un bel like e ripeto commentate qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli. Ciao. Grazie per questa visualizzazione a questo video e ti rimane solo una cosa da fare. Iscriverti al canale. Quindi qua sotto c'è scritto iscriviti al canale. Quindi se lo fai mi fai un grandissimo piacere. Se vuoi ti puoi anche iscrivere sul mio profilo Instagram che lo trovi qua sopra. E anche sul mio gruppo Facebook che lo trovi qua sotto. Con questo è tutto. Ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.